grazie a tutti grazie alessandra per avermi invitato una cosa distingue noi salentini dal resto del mondo abbiamo due due geni dominanti uno è il gene della premessa questa è inevitabile qualunque intervento inizia con premettendo che il secondo gene il gene del mi porto a casa tutto il possibile di cibari e perché è un giovedì di due anni fa più o meno abbondanti mia figlia mi chiama da milano dall'università e mi dice papà ho finito la mia scorta vengo a casa quel weekend succedono quei giorni successivi succedono due cose che sarebbero state titoli di giornali per vari giorni e invece uno fu un fulmine l'altro zero e la cosa mi fece arrabbiare molto il primo è una freccia rossa deraglia sul bologna sul milano bologna e taglia l'italia in due praticamente una delle principali tratte italiane tagliate in due per alcuni giorni la seconda compie 49 amini e nessuno se ne accorge capite che è stato un problema notevole ma la notizia vera che bloccò l'italia ovviamente la sapete colonio diventò la città più importante al mondo dopo o insieme a juan da lì cambiò tantissimo e in quei mesi che abbiamo vissuto nelle maniere più assurde più strane più più incredibili una cosa abbiamo avuto a livello mondiale forse come elemento che ci ha uniti e che ci ha fatto riflettere moltissimo il bisogno di relazione umana il bisogno di coesione sociale oggi tantissimi gruppi sociologi social di sociologi in particolare ma anche di psicologi al mondo stanno studiando il più grande problema probabilmente di questi ultimi 20 30 anni che ancora sottotraccia e viene poco dibattuto che è la polarizzazione sociale la polarizzazione sociale è forse il più grande problema di questo periodo perché anche più grande del riscaldamento globale perché perché ci blocca perché non ci permette di combattere quelli che sono i problemi che dovremmo combattere cioè ci porta a chiuderci noi stessi nelle nostre bolle confermative nel nostro mondo confortevole e non ci fa uscire dal di là ci chiudiamo in dogmatismi e non ne veniamo fuori questi due fenomeni che vi ho detto quindi il bisogno enorme di relazioni sociali che soprattutto chi come noi fa il freelance ha vissuto in maniera pazzesca io sono passato da poco meno di 100.000 chilometri l'anno a più o meno 5.000 chilometri l'anno cioè la mia relazione umana più forte è diventata la cassiera oltre ai miei familiari ovviamente la cassiera del negozio dove vado a fare la spesa piuttosto che il benzinaio o quando carico l'auto elettrica la colonnina che di umano c'ha molto poco la relazione umana è però il grande elemento che può combattere la polarizzazione sociale forse è l'unico strumento che abbiamo oggi per combatterla durante il periodo di lockdown come tanti di noi nel tanto tempo libero mi sono messo a scrivere alla fine ne è venuto fuori un libro che dovrebbe uscire a giorni che ha proprio questo titolo dalle comunità marginali all'economia della risonanza perché dalle comunità marginali perché sono i luoghi dove più forti sono le relazioni le comunità marginali è una bruttissima affermazione normativa della normativa italiana che individua i borghi di montagna le comunità disperse le frazioni lontane dal centro storico dal mainstream della progettazione edilizia e della gestione urbanistica quelle lì sono cose che contano poco portano pochi voti ma lì abbiamo una coesione sociale che fortissima delle relazioni umane ancora fortissime ed è da lì che secondo me bisognerebbe ripartire ripartire per costruire dei meccanismi relazionali che ci possano aiutare a venire fuori da quello che è l'elemento forse più potente i cattivoni della materia sui giornali che siamo la maggior parte di noi cioè chi fa profilazione chi fa segmentazione veniamo identificati noi come se fossimo noi la causa no in realtà la causa il cervello umano cioè il nostro cervello si è evoluto per non fare fatica di tutto il nostro corpo è l'elemento che consuma di più e quindi cerchiamo di usarlo il meno possibile perché se consuma andiamo al risparmio e usare poco cervello ci aiuta molto a dogmatizzarci a infilarci nelle bolle dove siamo tutti d'accordo non devo riflettere è complicato capire la fisica quantistica è molto più semplice immaginare che se è sparita una persona oggi hanno ucciso un'altra donna giusto per per dire è più facile pensare che è stata rapita dagli alieni più immediato e se comincio a cercare su facebook qualcuno che fa queste affermazioni lo trovo alla seconda la terza la quarta ricerca vedo solo di quelli per uscire quindi da questo meccanismo il modo principale l'unico modo è proprio questo cominciare a costruire nuove relazioni l'elemento che ho identificato io ho una formazione prettamente scientifica e quindi mi rifaccio molto alla fisica che a me piace tanto anche se la capisco molto poco e la fisica elastica e l'elastic l'elasticità come proprietà no un elemento inizia a risuonare quando viene colpito da un altro quindi a uno stimolo e restituisce questo stimolo ma se questo stimolo continua la risonanza aumenta cioè i due elementi iniziano a muoversi all'unisono ma non è come un balletto è molto di più perché ogni movimento di uno stimola e aumenta il movimento dell'altro e quindi la risonanza relazionale è l'unica la relazione umana e forse insieme alla risonanza fisica l'unico elemento che quando viene stimolato cresce produce di più della somma dei due semplici stimoli quindi se immaginiamo la polarizzazione sociale come una sorta di tapirulà su cui corrono tutte le nostre crisi le crisi economiche le crisi climatiche le crisi sociali e questo tapirulà non fa altro che accelerarle come quando andiamo in metropolitana abbiamo fretta sul tapirulà camminiamo e andiamo molto più veloci così si muovono le crisi facilitate proprio da tutti i dogmatismi che la polarizzazione sociale si porta dietro per questo ho cominciato a ragionare su come venirne fuori ho fatto alcuni lavori in questo periodo per me molto belli uno in particolare è stato creare un gruppo di sviluppo territoriale in un piccolo comune umbro dove la pubblica amministrazione mi ha chiesto allora abbiamo tutta una serie di imprese familiari che non si sopportano tra di loro e litigano dalla mattina alla sera vorremmo fare un'impresa di comunità poi abbiamo tutte le associazioni di volontariato che uguale sono tutti parenti quindi si odiano l'un l'altro e non hanno competenze imprenditoriali quindi vorremmo mettere insieme i due gruppi sociali e magari fare anche un piano di sviluppo turistico del territorio una cosetta così il tutto sempre quella settimana in cui mia figlia è venuta giù e dopo è partito il lockdown in questo periodo ho pescato a mani aperte nel mondo del growth hacking del dell'inna di tutta la comunicazione il marketing di cui ho trovato online e mi sono accorto che gli strumenti che noi utilizziamo tutti i giorni gli strumenti tipici che avete visto anche in alcuni talk molto interessanti questa mattina sono strumenti favolosi se applicati anche al mondo sociale quindi cominciare a strutturare dei percorsi in cui l'analisi delle personas l'analisi e la progettazione tipica di un piano di comunicazione così via in realtà diventano elemento di coesione sociale da qui è nata l'idea dell'economia della risonanza è legata alle piccole comunità venendo al dunque perché poi non mi voglio dilungare tra un po visto degli occhi brutti che mi guardano il tema come farlo ho cominciato a cercare online e ho visto che in realtà esistono una quantità di social network ad esempio per farvi un esempio di uno strumento ma poi in realtà ci sono tante tante opportunità ci sono dei social network non polarizzanti social network che casualmente mondo che a me piace molto sono open source e vengono da una progettazione open source social network che sono stati dieci anni fa sette otto anni fa consigliati ad esempio dalle nazioni unite come strumenti di comunicazione relazionale sui territori allora ho cominciato a mettere un po insieme queste cose nel mio piccolo e questo è il consiglio che vi vorrei lasciare come progetto di vita ma anche lavorativa creare cultura nel mio piccolo scritto questo libro che vi dicevo che prova ad affrontare questi temi che più uno stimolo per riflettere su questi temi dare degli strumenti ai nostri clienti alle nostre comunità che permettano alle nostre comunità di appoggiarsi sulla cultura e sviluppare relazioni coesive dove la coesione fare le cose insieme e chi meglio di noi non lavora in gruppo i freelance forse sono le persone che più di tutti lavorano in gruppo per quanto siamo visti sempre come la partita iva isolata e infine darsi degli obiettivi grandi e sfidanti non fermarsi mai alle piccole beghe del momento ma provare come avete visto di nuovo stamattina con due o tre interventi che secondo me sono stati davvero molto illuminanti darsi degli obiettivi grandi combattere il riscaldamento globale che un mio pallino lo possiamo fare io oggi qui a ravenna in questo momento anche solo semplicemente citando velo e quindi diamo ci come obiettivo anche professionale degli obiettivi alti che portino a un cambiamento su questo pianeta altrimenti non potremmo mai lamentarci che non cambiano mai le cose grazie